Come rendere un NPC, un mob o comunque un'entità cliccabile attraverso il quale poter poi essere teletrasportati in una zona specifica del tuo server oppure scatenare altri eventi, NPC, mob immobili ma pronti per interagire proprio come quelli che vedi nei server Minecraft Ora la sigla del canale e ti saluti a fine video Ciao sono Marco Vigelini e se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video Immaginiamo di essere all'interno del nostro hub qui abbiamo un blades interagendo con il quale ci porterebbe nell'area del player versus player qui abbiamo un creeper interagendo con il quale invece ci porterebbe nel minigame hide and seek interagiamo allora prima con il creeper tasto destro e ci teletrasporta verso questo blocco d'oro tasto destro sul blade stessa cosa sul blocco d'oro ora andiamo a vedere le catene create per costruire questa soluzione allora come ti avevo anticipato negli altri video siamo passati da una gallina davanti al cartello per arrivare qui mi sembra che fosse questo diciamo il blocco da disabilitare vediamo un attimo invisibility sì siamo passati quindi dicevo da una gallina da un pollo ad un maiale in quest'altro secondo caso terzo caso siamo arrivati ad un cavallo andiamo a vedere il cavallo che ci aspetta ecco qui adesso che compare sta davanti al blades vediamo la catena che abbiamo creato innanzitutto perché il cavallo il cavallo è sicuramente un'entità cavalcabile ma fondamentalmente è alta almeno quanto i mob che noi stiamo utilizzando inoltre puoi vedere che i due mob sono praticamente immobili perché gli abbiamo messo dei barrier block intorno e sono appoggiati anche su una lastra di mattoni stessa cosa anche per il creeper ci sono dei barrier che ne ostacolano il movimento perché vanno praticamente ad impattare con la dimensione del creeper stesso il creeper è sollevato con una lastra di mattoni questo cavallo dicevo è presente all'interno delle due entità poi questa è la catena che andremo a vedere per il creeper vediamo innanzitutto come abbiamo creato questa prima catena del blades allora abbiamo un blocco di tipo ripetizione incondizionale che necessita di pietà rossa perché in questo caso lo abbiamo attivato con la leva ma diversamente è sufficiente cliccare su sempre attiva il comando che abbiamo digitato è tp qualunque entità di tipo cavallo il cui nome è horse underscore click e lo portiamo esattamente a queste coordinate 85 5.5 24 in pratica questa è la coordinata 5 lo portiamo leggermente sopra in modo tale da diciamo sovrastare il la figura del del blades poi catena un blocco di tipo catena incondizionale è sempre attiva ovviamente consideriamo la necessità di dare una resistenza e una forza infinite ai nostri diciamo cavalli perché se qualcuno clicasse con il tasso sinistro potrebbe distruggerli quindi i due successivi blocchi che sono identici ma cambia la strength e la resistenza sono sempre dello stesso tipo catena incondizionale sempre attiva questo blocco che mi ha visto disabilitare poco fa è di tipo catena incondizionale necessita sempre di essere sempre attivato praticamente ci nasconde il nostro cavallo adesso l'ho riattivato e come vedi adesso il cavallo qui andrà a sparire ok il cavallo ovviamente si chiama horse underscore click puoi utilizzare l'incudine con la targhetta oppure oppure più semplicemente puoi utilizzare anche un command block o un diciamo questo comando digitato dalla chat dei comandi il comando è summon horse tilde 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 e poi il nome horse underscore click l'ultimo blocco della catena è di tipo catena incondizionale sempre attivo cosa va a fare dice guarda qualunque entità giocatore che si trova nelle coordinate 85,5,24 esattamente in quelle coordinate eventualmente un blocco più in alto allora me le ho trasporti nelle coordinate 89,5,19 89,5,19 sono esattamente questo blocco sono qua sopra 89,5,19 vedi le coordinate in alto a sinistra mentre le coordinate che avevi visto digitato all'interno del comando tp queste 85,5,24 sono quelle del cavallo quando io clicco con il tasto destro vado a montare il cavallo non appena io mi trovo in quelle coordinate il comando mi teletrasporta in questa zona proviamo a disabilitare quel comando e vederlo insieme proviamo a disabilitare allora questo comando io lo metto che è necessario di pietra rossa quindi questo comando di teletrasporto non viene effettuato cosa succede quando io clicco con il tasto destro come vedi come vedi io no aspettate si così come vedi io adesso sto sopra il cavallo esattamente sopra il cavallo adesso do anche domato praticamente sono impossibilitato nel vediamo F5 nel arrivare sopra questo punto perché tutto intorno abbiamo dei barrier block quindi io fondamentalmente non posso montare il cavallo invisibile quando ci riesco è perché ci ho cliccato con il tasto destro ma non appena arrivo in quelle esatte coordinate questo blocco se ne accorge e mi teletrasporta da un'altra parte quindi arrivo nelle coordinate decise ma subito dopo vengo teletrasportato qui riproviando il tutto eccomi qua andiamo a vedere adesso la parte del creeper la catena del creeper è ovviamente simile a quella vista in precedenza abbiamo un altro tipo di nome di cavallo horse2 underscore click perché devi creare tanti cavalli quanti sono le tue diciamo aree in cui vuoi teletrasportare l'eventuale giocatore disabilitiamo la visibilità di questo l'invisibilità del cavallo eccolo il cavallo come vedi si chiama horse2 underscore click bisogna sempre rinominarlo con incudine e targhetta e poi rimane tutto esattamente lo stesso cosa? teletrasporti in continuazione un cavallo con questo nome nelle coordinate specifiche 4.5 perché? perché il creeper caricato poi ti faccio vedere come si carica il creeper da linea di comando è sollevato diciamo di mezzo cubo cadena successiva cadena incondizionale sempre attiva ci dà la resistenza al cavallo in questione stessa cosa il blocco successivo cadena incondizionale sempre attiva ci dà la forza quindi il nostro cavallo è indistruttibile questo l'abbiamo appena disattivato ci dà l'invisibilità del cavallo andiamo a reattivare e vedi che il cavallo che mi sembra sia qui scompare immediatamente ora stessa cosa vista in precedenza c'è un comando tp che si accorge se c'è qualche giocatore in queste coordinate 85, 4, 17 eventualmente un blocco più in alto rispetto a queste coordinate se trovi un giocatore che sta in quelle coordinate me lo trasporti a 89, 5, 19 89, 5, 19 è sempre questo blocco le coordinate di cui sto parlando sono esattamente quelle all'interno ecco all'interno del creeper creeper lì dentro io adesso dall'alto sto scendendo come si accorge che io sto là sopra mi teletrasporta è ovvio che nella tua situazione dovresti creare un qualcosa del genere cioè nessuno può entrare dentro ma immagino insomma che in avventura nessuno abbia la possibilità di creare nel tuo mondo comunque sia una volta che hai protetto diciamo questa zona dall'impossibilità di raggiungerla se non con il tasto destro quando io clicco con il tasto destro monto sul cavallo non me ne accorgo neanche che vengo teletrasportato se ti stai chiedendo se c'è un problema con in modalità sopravvivenza ti dico assolutamente no questo è quello che succede con un creeper caricato tutto a posto fratellino tutto a posto fratellino direbbe qualcuno io ti volevo soltanto far vedere il comando che c'è all'interno di questo command block per eventualmente diciamo creare dei creeper già carichi questo è il comando te lo volevo far vedere insomma però non utilizzare ovviamente all'interno del tuo hub fammi sapere se l'hub del tuo mondo minecraft ospiterà questi npc o mob cliccabili il mio sicuramente sì e magari un giorno verrai anche a visitarlo se non sei iscritto al canale fallo adesso cliccando sulla campanellina ed attivando tutte le notifiche poi commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto infine dai un'occhiale a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto Mauro ed Ivan che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento ciao